benvenuti al podcast del giunco.net il racconto della giornata io sono daniele reali e questa è l'edizione di giovedì 14 aprile 2022 ha battuto il cavallino rampante di marina di grosseto ieri sera un uomo di origine argentina come atto di protesta rispetto alle sue personali vicende giudiziarie assegato con il frullino una gamba e la coda del cavallino simbolo del quarto stormo dell'aeronautica e punto di riferimento del lungomare e del centro di marina l'autore del gesto è stato poi arrestato si tratta di una persona già conosciuta dalle forze dell'ordine stamattina il comune di grosseto ha poi provveduto a ripristinare il cavallino nella sua posizione originaria sul giunco.net trovate i video del folle gesto che è stato ripreso ieri da diverse persone che si trovavano sul posto ancora la cronaca diving evasore totale mezzo milione di euro di ricavi non dichiarati dava lavoro e affittava case a nero in cinque anni non ha mai fatto la dichiarazione dei redditi la guardia di finanza ha così scoperto un diving che operava sulla costa gestendo corsi sub e gite molti cittadini italiani e stranieri avevano lamentato di aver usufruito dei suoi servizi senza che venisse loro rilasciato scontrino o ricevuta fiscale adesso gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus e nuovi casi positivi in toscana sono oggi 4.100 su 27.000 tamponi il tasso dei nuovi positivi del 14,91 per cento secondo i dati della regione oggi in provincia di grosseto i nuovi casi sono 269 arrivederci e buona giornata grazie a tutti 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 arrivederci e buona giornata per questa edizione del podcast è tutto ci sentiamo domani